Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto in via Aristosseno. Via Aristosseno è una traversa di via Cesare Battisti, una zona quindi centralissima, estremamente trafficata. Vogliamo segnalarvi lo stato di decozione assoluta, le condizioni incredibilmente penose del manto stradale. Come vedete è tutto rappezzato ma è un abito di arlecchino della peggior specie perché ci sono stati rattoppi su rattoppi, rappezzi su rappezzi e quindi immaginate voi i, per così dire, dossi e cunette che si sono venuti a creare, per così dire stratificandosi nel tempo. Allora mi domando, ma l'amministrazione comunale, il vice sindaco Lonucci, assessore ai lavori pubblici, si spendono tanto per riqualificare altre strade che per carità meritano e poi ci sono dei casi ancora più gravi come questo che vengono inspiegabilmente dimenticati, trascurati. C'è una ragione di sicurezza, non è solo un fatto estetico perché immaginate le tante persone anziane che si muovono nella zona per andare a fare la spesa e corrono il rischio, come sovente accade, di cadere, di riportare dei danni fisici e quindi chiaramente di rivalersi nei confronti del Comune chiedendo un'azione, promuovendo un'azione risarcitoria del danno appunto subito. E ripeto, una situazione penosa, qui c'è anche un tratto in cui parcheggiano i taxi, ma ripeto, non credevo ai miei occhi quando ho visto uno spettacolo del genere. Provvediamo perché diamo veramente un'immagine pessima della città e corriamo rischi gravissimi per la nostra incolumità.